buonasera e benvenuti alla rubrica di osimo web tele nana nana tele approfondimenti interviste redazionali incontri casuali un tg per il popolo un tg un po così a cavolo un tg un po a cavolo ringrazio la redazione che ci ha fornito di ogni nuova frontiera della tecnologia televisiva abbiamo l'avatar del programma eccolo qui del programma come regia a scusate e se non metto l'antenna non prende ma come prima notizia passiamo proprio alle notizie dal web e dovremmo avere anche un'immagine in sovraimpressione ce l'abbiamo regia si ce l'abbiamo eccola qua e io più sovraimpressione di così non ce l'ho allora notizie dal web ubriaco alla guida mette il cane al volante e gli dà la colpa che poi è proprio il caso di dire quando sei ubriaco e chiedi al tuo miglior amico di riportarti a casa treviso il bar dove chi bestemmia paga maxi tariffa anche per quelle d'autore è una bestemmia un euro tre bestemmie due euro e cinquanta la bestemmia d'autore cinque euro e pare che qualche cliente affezionato abbia messo soldi preventivamente nel bussolotto è la casa sull'acqua in america una donna che da 31 anni vive su un'isola galleggiante costruita con il marito che ti viene da pensare ma quanto era grosso sto marito per sostenere diciamo il galleggiamento e passiamo alle notizie flash si inietta il sangue del figlio 17enne per rimanere giovane che non stiamo benissimo proprio sesso di giorno sul lungomare in italia il sindaco ha pubblicato le foto sul web forse hanno esagerato un po tutti quanti una donna ha sposato il marito creato con l'intelligenza artificiale dice non mi giudica ci credo non esiste dalle bambole agli aerei chi sono le persone attratte sessualmente dagli oggetti che poi le bambole posso capirle ma gli aerei partecipa un'orgia e poi torna a casa ubriaco e drogato la compagna lo denuncia alla polizia motivazione della denuncia non mi aveva portato con lui modella di olifant si rifà il seno e lo scarica dalle tasse spesa aziendale pare che abbia detto è un investimento che mi ha permesso di fare grossi profitti e sui grossi profitti finisce la notizia azienda in america assume finto prete per spiare i dipendenti l'ira della curia confessava più di noi spende 250.000 sterline per somigliare a barbie ora vuole diventare ken passiamo ora al mestiere del giorno lo psicologo quando vivi con uno psicologo devi sapere che allo psicologo piace farti tantissime foto solo che ci mette molto tempo per il fatto che cerca sempre il tuo lato introspettivo quando litighi con uno psicologo sappi che poi ti chiederà sempre ora come stai barzelletta sugli psicologi quanti psicologi ci vogliono per avvitare una lampadina nessuno si avvita da sola purché la lampadina prenda coscienza e accetti l'esistenza della luce nota personale vivere con una psicologa fatto ok passiamo ora al santo del giorno san carlo protettore delle patatine fritte e lo sponsor della puntata water pop un'app nuovissima dove vendere e scambiare water usati e ricondizionati wc per tutte le tasche e tutti i sederini water usati ma pronti all'uso water pop una garanzia di serietà e trasparenza il nostro motto dovete sostituire i vostri sanitari con noi non starete più nella cacca ora passiamo al proverbio del giorno il proverbio del giorno nana 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 e nana 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 rosso di sera e troppi campari concludiamo questa puntata con il gioco della puntata il nana crocida web allora lo facciamo anche insieme capita al pesce quando muore in giappone nove lettere resuscita sono famosi quelli egiziani nove lettere Pizzaioli Atto con testimoni che preclude un reato Dieci lettere Matrimonio Bene, per oggi è tutto Un saluto ai veri conduttori di TG Da me e da Plichi Una buona continuazione di giornata Ma soprattutto di serata E alla prossima puntata Perché io vado al mare